Sono Rita Minelli, insieme a me esplorerai la potenza dell'arte intuitiva, entrerai in contatto con i colori, con i suoni, le musiche, con il tuo sé superiore e farai esperienza della magia del campo sincronico. Sono Max Schiavetta e con me scoprirai la tua verità interiore attraverso la saggezza dei tarocchi. Ti aspetto. Sono Francesca De Mori, insieme ricercheremo il tuo suono, la libera creatività del sé, con pratiche di sound healing, consapevolezza vocale e armonizzazione sonora con le campari tibetane. Ti aspetto. Sono Michele, nella mia via incontrerai quattro energie, l'ingelitrato, le cinte, le arti marziali e la calligrafia. Ti aspetto. Ciao, sono Laura, con me scoprirai in un modo assolutamente inedito l'arte e la magia del make-up. Ti aspetto. Ciao, sono Carlo Dolofatti. Con me farai meditazione e potrai approfondire i grandi temi della conoscenza iniziatica. Ti aspetto.